La convenienza economica, penso si può capire, insomma un kit di pannolini lavabili per la durata del tempo necessario costa tipo 250-300 euro e in rapporto a tutti i pannolini che servono per circa tre anni, di pannolini usa e getta si spenderebbero sui 2.000-2.500 euro. E ovviamente c'è un po' di sacrificio in più per la lavatrice da fare per lavare il pannolino. È la testimonianza di una mamma che si è votata da sei mesi ai pannolini ecologici anche per una scelta ambientale, oltre che di risparmio familiare. E visti i risultati ha proposto la cosa l'assessorato all'ambiente del comune di Padova che ha sposato le idee e l'ha estesa a tutti i nuovi nati del 2010 del comune di Padova che dal mese prossimo dunque riceveranno gratuitamente il kit di pannolini ecologici che vedete nelle immagini. A distribuire il kit ci penserà l'Acegas APS grazie alle indicazioni dei nuovi nati che arriveranno dall'anagrafe. I genitori che sceglieranno di utilizzare questi pannolini anziché gli usa e getta potranno poi comprarne altri a seconda delle necessità nei negozi specializzati che saranno indicati dall'APS. Fanno bene al bambino perché il tessuto è un tessuto di cotone ed è un tessuto assolutamente compatibile con la pelle delicata del bambino ed è anche per questo che non solo migliorerà, lasceremo un ambiente, una città e un pianeta più pulito alle nuove generazioni ma diamo anche la possibilità ai bambini di avere una qualità della vita anche nei primi anni elevata rispetto a quello che hanno con i pannolini tradizionali. In termini di risparmio la novità produrrà una riduzione di rifiuti prodotti pari a 1800 tonnellate e 1500 euro all'anno di spese in meno per bambino a carico delle famiglie. Calcolando anche il costo di detersivi e elettricità, in un anno le famiglie spenderanno 82 euro di lavaggio dei pannolini ecologici rispetto ai 650 euro di spesa annua per i pannolini in commercio. Pannolini ecologici che oltre a rispettare la pelle del bambino sono regolabili e utilizzabili dai 3,5 chili ai 16 chili. Possono essere lavati anche a 50 gradi con detersivi ecologici e indicativamente vanno lavati ogni 3 giorni.